E salve a tutti ragazzi qui come sempre il vostro aree benvenuti in questa nuova recensione sigla Ed eccoci qui con una statua in edizione limitata per la linea gem di Mega House Abbiamo tra noi Kakashi Ninkai Taisen direttamente da Naruto Eccolo qua ragazzi questa è la confezione vedete con questo sfondo nero con qualche parte violacea Qui abbiamo la finestra che mostra appunto la nostra statua all'interno Qui c'è quest'altra piccola finestra oblo si può dire così che mostra la testa intercambiabile Qui sul lato vediamo la statua nella sua interezza guardate che figata con lo spadone di Zabusa sulla schiena Qui abbiamo questi altri oblo Qui sul retro abbiamo uno zoom sul viso del personaggio Questo è l'altro lato con vedete la statua vista da dietro Questa è la parte superiore Questa qui è la parte inferiore Se voleste acquistare questa figure se non è già esaurita Essendo edizione limitata la potete trovare nel mio sito A servizio shop nella scheda in alto pure qui sotto in descrizione Ovviamente acquistando la lì mi aiutereste veramente tantissimo Ma andiamola a vedere fuori dalla confezione Oh e allora ragazzi qui c'è la statua con tutti i suoi accessori Andiamo prima a vederli poi la monterò ve la farò vedere da lontano E poi andremo a vedere i dettagli Allora questa qui è la basetta Guardate qua che figata con il nome Atake Kakashi Con questo effetto molto molto ben realizzato devo dire E qui ci sono naturalmente i peg in metallo per andare a posizionare la nostra statua Qui abbiamo la testa intercambiabile che differisce da quella montata Semplicemente perché ha quest'occhio qui aperto al posto di essere chiuso Comunque si può vedere già il livello di dettaglio di questa statua Che è a dir poco magnifico ragazzi Guardate qua che spettacolo Anche il painting lì nell'occhio con lo sharingan è fatto benissimo Così come anche quello gunmetal sulla fascia E notiamo che i capelli non sono semplicemente grigi Ma hanno delle leggere sfumature così come anche la carnagione ragazzi Veramente un livello di dettaglio eccezionale così come vedremo sul resto della statua naturalmente E ora ragazzi il pezzo forte ovvero la spada enorme di Zabusa Che andremo a misurare naturalmente per l'occasione Siamo praticamente sui 28 cm quindi 11 pollici Quindi veramente grandissima Ve lo faccio vedere a confronto per esempio del vegeta blu Guardate qui quanto è più alta quasi il doppio Ma ragazzi non è solo la dimensione che conta Guardate il dettaglio incredibile di questa spada Con tutti questi effetti vedete di usura su di essa Fatti veramente bene sono tutti scolpiti ovviamente Alcuni rialzati tipo questo Alcuni invece scavati tipo vari graffi che ci sono Guardate qui la lama anche ben fatta Tutte le sporcature questi segni diciamo di sangue Anche di ruggine forse sulla spada Veramente realizzata alla perfezione Questa è l'altra parte vedete con un po' meno di sporco diciamo Guardate qui anche questo dettaglio veramente fantastico ragazzi Di questa zigrinatura Già che ci siamo vedete ve la faccio vedere un po' più nel dettaglio Guardate qua che spettacolo tutti questi effetti Davvero realizzata alla perfezione con una cura maniacale Questo qui è il manico anche questo ben realizzato Lunghissimo e per essere impugnato dalla statua Va rimosso vedete in questo modo grazie a questo peg Oh ed ecco qui la statua nella sua interezza Come vedete ragazzi è una figata Tra l'altro non c'è neanche bisogno forzatamente della base Perché come avete visto prima si può reggere da sola Senza alcun problema Comunque andiamo a misurarne l'altezza Ovviamente Kakashi è accovacciato Siamo praticamente sui 18 cm scarsi Se contiamo diciamo l'altezza più alta Ovvero questo pezzo del manico Contando solo Kakashi siamo praticamente sui 15 cm Come larghezza è ovviamente quella della spada Che abbiamo misurato prima Ecco ve la faccio vedere un po' da lontano Come al solito dovevo girare per forza con le mani Purtroppo non mi sono ancora procurato una basetta rotante Però dai ci può stare come soluzione per il momento E qui potete scorgere tutti i dettagli ragazzi Veramente uno spettacolo Ma adesso li andremo a vedere naturalmente più da vicino Ed eccoci qui con un bello zoom sul volto Prima abbiamo visto l'altro nel dettaglio Questo qui appunto come vi dicevo Differisce semplicemente per quell'occhio chiuso La spada comunque è molto leggera Quindi Kakashi non fa fatica a tenerla con una sola mano Tra l'altro è anche appoggiata sulla schiena Andiamo a vedere per esempio i dettagli del giubbotto Guardate qua ha fatto veramente benissimo Tutto sfumato ragazzi Questa figura è tutta sfumata in ogni minimo dettaglio Qui c'è il simbolo aspirare fatto veramente bene Tra l'altro anche scolpito quindi in rilievo Andiamo a vedere l'altro braccio Anche questo fatto veramente bene La posa è stata realizzata alla perfezione naturalmente ragazzi Vediamo anche i dettagli sulla parte posteriore ragazzi Anche qui fatto molto molto bene il giubbotto E qui vediamo le gambe che secondo me sono la parte migliore Perché hanno più dettagli di sporco rispetto al resto della statua Guardate qui per esempio le fasce, questo fodero Ma soprattutto hanno un sacco di sfumature più chiare Che mi piacciono veramente tantissimo ragazzi Come per esempio queste qui sulle ginocchia Veramente ben fatte Guardate qui anche le fasce qui alle caviglie Tutte sporcate, spettacolari Qui c'è la mano in questa posa con le due dita appoggiate Veramente fighissimo anche questo dettaglio E qui vediamo l'altra gamba ragazzi Anche questa piena zeppa di sfumature Anche qui con la fascia tutta sporca Anche il piede è fatto veramente bene Anche qui ci sono sfumature alla fine della calzatura addirittura E qui vediamo anche vedete il borsello di Kakashi Che tiene dietro E allora ragazzi questa era la mia recensione di questa fantastica statua Mega House Un pezzo incredibile Che naturalmente non ho potuto fare a meno di aggiungere alla mia collezione Essendo Kakashi il mio personaggio preferito di Naruto in assoluto Insieme a Minato Fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commento qui sotto Lasciate i like se questo video vi è piaciuto E se volete aiutare potete anche condividerlo Se volete acquistare questa statua Se non è già esaurita La potete trovare nel mio sito Aras Nella scheda lì in alto Oppure qui sotto In descrizione Detto questo Grazie a tutti per la visione Noi ci vediamo alla prossima Ciao da Arada Kakashi E collezionate sempre Grazie a tutti